Allora, buongiorno a tutti, benvenuti alla conferenza stampa di presentazione del film White Plastic Sky, che è il titolo internazionale, un film di Sharol Tasabo che abbiamo qui e Tibor Benotsky, che abbiamo il piacere di accogliere. Benvenuti, registi, sceneggiatori ungheresi, il vostro film è stato selezionato in competizione internazionale lungometraggi ed è qui un anteprima italiana. Il film è prodotto da Josef Fulop per la ungherese Salto Film in coproduzione con Proton Cinema e una coproduzione internazionale con la slovacca Artichoke Film. Ha avuto anche il supporto di Eurimag del Consiglio Europeo. La prima mondiale è stata al Festival di Berlino in febbraio nella sezione competitiva Berlinale Encounters e poi c'è stata una prima in Ungheria a marzo. Ci sono stati già numerosi festival, numerosi premi e ha candidato anche al miglior film lungometraggio di animazione agli European Film Award del 2023. Volevo intanto farvi un paio di domande io e poi passare la parola al pubblico. Io avevo una curiosità tecnica, nel senso che qui l'immagine ovviamente richiede una visione in sala perché è proprio spettacolare ed è anche attentissima al dettaglio e direi agli aspetti umani delle immagini. Allora volevo capire la tecnica mista che avete utilizzato, se ho capito bene 3D e rotoscoping, ma volevo proprio che ci spiegaste un po' meglio qual è il meccanismo per cui si riesce a realizzare un'immagine a partire da visi umani. Sì, buongiorno. Sì, abbiamo usato questa tecnica rotoscopica in questo film. Sì, stavamo sviluppando la storia. Nel stesso tempo abbiamo iniziato a pensare a quale tipo di visualità che vogliono usare in questo film, perché in i nostri filmi, prima, avevo sempre usato diverse tecniche. Quindi, durante il lavoro di White Plastic Sky, from molto early on, abbiamo pensato che, perché stiamo dicendo una storia, abbiamo pensato che bisogna lavorare con gli attori, perché abbiamo bisogno delle emozioni per essere sul screen. Quindi, questo era il primo punto di iniziare per chiedere questa tecnica. Buongiorno a tutti. Per rispondere a questa domanda sulla tecnica di animazione con il rotoscopio, devo raccontarvi che, per quanto riguarda il sviluppo di questo film, fin dalle fasi della scrittura e della sceneggiatura, all'inizio, abbiamo cominciato ad interrogarci su che tipo di tecnica visiva utilizzare per raccontare la nostra storia. Poiché in tutto il nostro passato lavoro ci siamo occupati di cortometraggi principalmente e abbiamo sempre utilizzato tecniche diverse per girare i nostri film, abbiamo subito cominciato ad interrogarci rispetto alla tecnica da utilizzare per girare White Plastic Sky. Quindi, facendo varie ricerche e studi, abbiamo capito che sicuramente dovevamo utilizzare degli attori che, con l'espressività delle loro emozioni, dovevano essere colte subito ed immediatamente sul grande schermo. Hello, good morning. It was also a very interesting match with the concept, we tried, the whole concept, the core concept is the film is metamorphosis and kind of life forms between human and plants, and so we tried to match it with the visual, which is also somehow a kind of in between, in between a live action and animation, in between genres, so it is an art house film and a love story and a bit of sci-fi, a bit of road movie. So we kind of match these things together conceptually as well. Ebbene, poi abbiamo fatto anche una specie di lavoro di rapportare varie forme a livello della nostra elaborazione concettuale per questo film. Si tratta di una metamorfosi, se avete visto il film vedete che la vita si trasforma dagli esseri umani, questi si trasformano in piante, in vegetali, e quindi dovevamo trovare proprio questo nostro modo più connotato, il più connotato possibile, che mostrasse questo frapporsi tra la live action e il film di animazione. E abbiamo pensato di, visto che tocca numerosi generi, visto che è un film artistico, visto che è una storia d'amore, visto che è un film dove si tratta anche la fantascienza, in parte è anche un road movie, abbiamo appunto pensato a questo raccordo per unire tutti questi concetti nel film. Ci sono state delle fonti di ispirazione particolari per quanto riguarda l'animazione, fonti di ispirazione in animazione o anche in altri campi dell'arte? In animazione, in altri campi dell'arte, in filmazione? Well, we were really inspired by Greek mythology, you know, there's a lot of tales and stories in Greek mythology about metamorphosis, and we were interested in this kind of human and plant metamorphosis. that was one of the main inspiration. And the other was, obviously, we started the film in 2015, but at that time, you know, the kind of where the world is going, the climate change was very, we were very aware of that, and the kind of the two things came together. And the third was a bit of, we wanted to reflect on the current politics, that we created a city like Hungary or Budapest, which kind of closed itself from the rest of the world, and they don't know anything about what's happening outside. so it came, it turned out in the seven years as quite a parallel what our country is going to. Posso dire che la fonte di ispirazione principale è stata proprio quella della mitologia greca, dove infatti sono tanti i racconti e le storie che parlano proprio della metamorphosi, e qui abbiamo appunto gli esseri umani che si trasformano in piante. quindi questa è l'ispirazione principale. Abbiamo iniziato a lavorare a questo film nel 2015, dove appunto la consapevolezza sul cambiamento climatico era già ben profonda e ne era coinvolto tutto il mondo. E in un certo senso queste due cose si sono unite e in terzo aspetto che anche ha corroborato la nostra realizzazione del film in questo modo, erano delle riflessioni politiche, poiché nel nostro film vedete che abbiamo creato il paese, l'Ungheria e la città di Budapest come delle località, dei posti, delle città isolate dal resto del mondo, dove non si sa che cosa sta succedendo nel resto del mondo. Quindi diciamo che nel corso di questi sette anni in cui ci siamo occupati del film, c'è stato un vero e proprio parallelismo con quello che è successo a livello politico nel nostro paese. Ci sono domande? Salve, a proposito della metamorfosi ho trovato molto interessante la scelta di rappresentare gli alberi in animazione 3D mentre gli umani sono stati disegnati a mano. E non a caso, se non sbaglio, quando poi gli umani subiscono l'operazione di impianto del seme artificiale vengono chiamati ibridi. Quindi ho trovato molto bella questa tematizzazione dentro l'animazione del film di questa metamorfosi e dell'accettazione poi di questa metamorfosi. Volevo sapere se anche per voi era così perché ovviamente questa è stata una mia impressione e volevo sentire il vostro parere. Sì, as you can see in the film, we animated the characters in 2D and we built the environment in 3D. We chose the 3D environment because we thought that in this way we can build a much more interesting visual world around our characters and we can experiment much more with the film language, we can experiment more with the camera and that was very important for us and it was very important with the environment to give the chance for the audience to feel this world on their skin. So we wanted to create a way more realistic world around the story. So that's how we chose to combine these two techniques. So it was a technical decision but it's interesting that how the 2D characters turn into 3D. Tibor, maybe you want to... A translation? Sì, abbiamo realizzato i personaggi con la tecnica di animazione in due dimensioni e invece tutto l'ambiente circostante, le location, sono state realizzate con la tecnica 3D e quest'ultima doveva proprio servire a costruire un mondo visivo molto più interessante, molto più profondo e volevamo grazie a questa tecnica riuscire anche a sperimentare meglio con il linguaggio cinematografico e anche con la camera. Inoltre questo aspetto dell'ambiente avrebbe offerto la possibilità al pubblico che vedeva il film di provare proprio, di esperire sulla sua propria pelle quella che era la sensazione di vivere in quell'ambiente perché pensavamo di riuscire così a creare meglio un mondo reale che era proprio quello in cui la storia si dipana. Quindi questa decisione tecnica è stata proprio mossa da queste motivazioni ma credo che anche i personaggi in 2D siano poi interessantemente trasformati quasi in personaggi 3D. Sì, e abbiamo pensato che è molto interessante il contrasto tra le persone con la existenza di questi personaggi è quasi come il loro mondo è flattato in 2D e, per il contrario, il loro mondo che abbiamo molto piaciuto per creare anche il mondo e anche il mondo la storia è al fine, non è più vivo che i personaggi, ma è solo così vivo, e abbiamo trovato un contrasto estetico interessante. In qualche modo le loro parole risultano quasi piatte su questa superficie bidimensionale, mentre invece questo mondo, per quanto distrutto, poteva comunque dare un senso di grande profondità, perché noi l'abbiamo creato con tantissima gioia, e questa tridimensionalità degli ambienti, degli alberi, diventa effettivamente vivo, tanto quanto i personaggi stessi. Volevamo proprio creare questo contrasto estetico. C'era un'altra domanda. Buongiorno, qual è la lavorazione, nella parte specialmente, in tutte le parti, nella pipeline del 3D, e nella pipeline del mondo dell'animazione tradizionale, la parte più cura? Perché specialmente ho notato che c'è stato un lavoro molto principi sulle texture, che sembrano proprio delle fotografie quasi, specialmente nel lavoro proprio del materiale del legno. We work with wood. La domanda è, scusa, perché quando il microfono si è spento, forse non l'abbiamo sentita bene. Qual è stata la? Qual è stata la? Qual è stata, principalmente, la parte culturata nella lavorazione? Ok. Which one was the most curated part, when working on the two different technologies, the 2D or the 3D? Sì, this is the core of the question, because he's noticed the texture of the material, the wood, especially... L'avete sentita tutti la domanda, sì? But how do you mean curated? With care, done with great love and with great attention, with great technological... It was quite a small team, who were working on this project. It took seven years, so I think we took care of great interest with every part. Like, there were not, you know, we, Charlotte and I, we were the directors and the writers, but we were also the main concept designers as well. So, and also the main supervisors of the animation, so there were no choice of, you know, letting somebody else, because we had to take care of every aspect of the project. So, it was, yeah, it was a great love for the 2D and the 3D as well. And we used, we took, we have a huge photographic library, so we collected many, many surfaces everywhere we went, and because we felt if we use these photographs on the 3D models, on the landscapes, and on the buildings, and on the objects, it can make it more rich and real, the visuality of the world. And actually, we used different textures on different materials, like you mentioned, the trees, and actually the texture on them is elephant skin, which makes it somehow a bit more... More human, so it's like a transition between human body and between the tree barks, you see, that's why we didn't want to use the real tree barks. because we wanted to create a little bit bizarre kind of appearance for the trees. It can be seen if the camera goes closer to the trees, that it's a little bit weird, it's a little bit uncomfortable to look at it. So, we wanted to create this uncomfortable feeling with the trees. Sorry, it's okay. We worked for seven years for this project, and we were a very small group of collaborators, and therefore, we curated and loved every aspect of the filmmaking of the film, Sia dell'animazione, che della realizzazione in 3D. Io e la co-direttrice, la co-regista del film, siamo appunto registi, sceneggiatori, abbiamo creato e curato il design concettuale e abbiamo operato anche da supervisore agli aspetti di animazione, quindi non c'era veramente nessuno degli aspetti del progetto che potesse essere trascurato da noi. Noi abbiamo curato ogni singolo aspetto e quindi sia quelli in 2D che in 3D. La co-regista ha aggiunto che hanno una library molto molto ampia di fotografie e quindi è per questo che hanno potuto veramente rendere in maniera così perfetta e realistica tutte le superfici del materiale che veniva utilizzato all'interno del progetto. E ovunque andassero quindi scattavano fotografie proprio per poter raccogliere sempre più elementi e questo penso che si veda in maniera molto chiara negli alberi, negli oggetti, nell'ambiente, negli edifici che fanno parte del film. Tutto aveva e doveva avere un aspetto estremamente reale. Tra l'altro visto che ha parlato delle texture abbiamo operato diverse scelte e abbiamo anche utilizzato materiali diversi per esempio per creare la corteccia degli alberi. Non ci siamo preoccupati di prendere fotografie delle cortecce degli alberi, bensì abbiamo lavorato su foto della cute della pelle degli elefanti perché così aveva un aspetto molto più umano che non vegetale e ci piaceva proprio presentare questa transizione dell'essere umano che diventa albero e quindi questa corteccia non doveva sembrare effettivamente la corteccia di un albero. E aveva dunque questo aspetto così un po' bizzarno, un po' strano che creava un po' di disagio mentre si seguiva tutta la sequenza. La dimensione di fantascienza è molto temperata per tutto il film e volevo sapere se in questa direzione sono serviti sia il montaggio che la musica. Cioè se sono stati degli elementi che hanno permesso di stemperare l'aspetto di fantascienza, non so se riesco a spiegarmi. C'è stato un po' di scena di scienza, non so se riesco a spiegarmi, non so se riesco a spiegarmi, non so se riesco a spiegarmi. C'è stato un po' di scena, non so se riesco a spiegarmi, 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 o in architeccia o non so se riesco a spiegarmi, non so se riesco a spiegarmi, non so se riesco a spiegarmi, non so se riesco a spiegarmi. C'è stato un po' di scena, non so se riesco a spiegarmi, non so se riesco a spiegarmi. C'è stato un po' di scena, non so se riesco a spiegarmi, non so se riesco a spiegarmi, non so se riesco a spiegarmi. C'è stato un po' di scena, non so se riesco a spiegarmi, non so se riesco a spiegarmi. In questo tipo di film di dystopia. Sicuramente poi si trovano qualunque sia la propria scelta delle ispirazioni, delle cose che sono già stati visti o in ambito architettonico, nella letteratura o negli altri film che sono stati girati. Come per esempio nel nostro film, il dome, la cupola, fa parte dell'Eden Project, quindi è un elemento visivo molto noto, oppure l'elemento degli ibridi. Anche questa è una suggestione che ci viene dalla mitologia, che troviamo in numerose forme ed arte. Quando noi parliamo con il pubblico dopo la proiezione, spesso taluni spettatori ci dicono che questo film gli ricorda quello interpretato da Charlton Heston nel 1975, Soil and Green, dove... Soil and, it's like Green Soy. Ah, ok, scusate ma Green Soy, quindi Soil and Green, dove le persone si trasformano. In alimenti, quindi ci si possono ravvisare numerosi elementi di fantascienza, in questo senso anche nel nostro film, ma ci auguriamo che si vada in una direzione un po' nuova, con un messaggio filosofico diverso e che non sia mai stato visto in precedenza in ambito di cinema e di film distottici. E in termini di editing, you know, we are coming from Eastern Europe, we are coming from the country of Belatar, so we really like slow cinema. And we were thinking that, yes, we have more action in the first half of the film, but after that we wanted to change the rhythm of the film. And we wanted to go towards this slow cinema and to discover this world, discover the loss of our world in this way, when we were working in the editing room with our editor, Judith Sakho. So it was an important thing for us to thinking about how we should edit this film. Ma poi, nella seconda metà del film, abbiamo voluto cambiare passo, cambiare ritmo e andare verso proprio questa idea di slow cinema, proprio per permettere a tutti noi di scoprire questi ultimi passaggi di quello che è l'esistenza di questi personaggi. e abbiamo proprio sfruttato la presenza nella sala di montaggio per riflettere principalmente su questo. Avremo tempo per un'ultimissima domanda, che farò io. Scrivete insieme? Tutto dall'inizio, tutto? Tutto dall'inizio, tutto, tutto, sì, complimenti, no, perché è un lavoro difficile di scrittura, in particolare in questo caso qui, immagino che sia molto articolato e scrivere in due. Quanto tempo ci avete messo a scrivere? Quanto tempo ci avete messo a scrivere? I think, yeah, one and a half year, from the beginning to the end. Un anno e mezzo, dall'inizio alla fine. Va bene, complimenti, ci dobbiamo fermare, grazie. Grazie per la traduzione a Marina. Buon festival. Grazie. Grazie.